musica e eccoci qua ragazzi e siamo qui alla seconda parte aggressivi dobbiamo essere aggressivi è colpa mia cosa è colpa tua? no che sono caduto è messo il tema no eccolo ragazzi guarda sottotitolo come come fai il pro tra i blocchi di ghiaccio mamma mia e non si vedono no no sei caduto? io sono caduto ma solo solo по l blind fermo pur io ok ok arrivo no 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 eeeh credo sia la carne credo si sia un bel anno in servono pregame appena sei risolvi di problema Io sto già qua Rieccoci ragazzi Io sto a fine livello Allora Primo il salto doppio Primo il salto doppio e poi il salto singolo Vero? Sì Ok poi niente salto Poi il salto doppio Io so Ok sì qua il salto doppio vai Ok tanti salti doppio Sì Vai che c'è vai vai Aspetta non hai riavviato il timer Eccolo qua No 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 Mario Che è successo? Dove sei? È amaro? Ah oddio Ok Stiamo Oddio Ok non ci capisco niente Perfetto Perfetto No no sono un tardo Rinascimentale No no Era il sotto finale Oddio Oddio profondamente No 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 stavolta non sono stato io No sono caduto pure io Dai non prende più lo spray E tu mi porti sento indietro Ma perché? Perché? No no Vai Ok Levati vai No no E dai Ok 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 Ci sono No no Era facile L'avevo fatto alla prima botta No no Stava caduto Aspetta Non vedevo niente C'eri tu dentro di me Eh Capito? Pimeno È abbastanza brutta come faccia Però è Dai No sì No Sì Non c'è una Che hai preso il check point Perché due secondi dopo Cioè Due minuti secondi dopo Sono caduto io No Dai Dai Allora Allora Ok Ok Perché questa ci riesca E quello dopo no? No Oh do E' amaro? Sì Che fine cacca Quanto Eh? E io qua tu Oh do Ah Qui Che c'è la riuscita L'aiuto del nostro amico Tipi No 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 Ok 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 Ce l'ho fare Do Ma è tipo un blocco più lontano Quella o quella è l'impressione mia? È l'impressione tua Do E perché a uno ci riesca e all'altro no? Perché sono poco tardi Do Dai Ok 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 ci sono Ok ok ci sono No Ok ce la posso fare questa No no Soltavo E staccelate Ah tutta è quella? Sì Vabbè aspetta che arrivo Ok Ok Sato praticamente questa qua io faccio le riprese di Garamaro Se tu volevi sapere Perché c'è No Perché maledetto Oh Oh io non avevo fatto niente eh No 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 Sì 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 Queste stagionali non regolano il mio peso Allora No Facciamone uno per volta Dai 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 Vai che c'era No 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 Vai te Eh aspetta Ok Ora Dai No Devo uccidere qualcuno No 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 Ok Ok Perché io non riesco a risalire Ok Dai Ma perché queste stagionate mi slittano Maledette Allora mi devo concentrare Ma perché No Stavide stagionate No Ok Ok Ce la sto facendo va Ok abbiamo cinque Ma non è possibile Queste stagionate cittano eh Sì Abbiamo cinque minuti per fare questo livello Ok Sono la seconda Sono la seconda Vai prego Vada a lei Do Sono la terza Fermo 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 Ti prego Sono la quarta Ma guarda Vada signora vada Ok Ok ci sono Mi fermo Signora non la può fermare nessuno Ok no No Signora Allora adesso questa la voglio fare da provare Aspetta Oh Oh No Aspetta Oh Oh Il trucco di queste stagionate è non premere shift Ok E io lo premo sempre shift Non ne manco No Io a me il contrario Se premo shift mi slitta il personaggio Eh ho capito ma non è anche salta sto schifo Tu no Ecco il famiglio Stavo cadendo su prima un bucchetto Oh 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 Questa volta non ha saltato lui eh Oh E un po' Scatta anche La nostra seconda mira Creative Ok ce la sto facendo Ok no No Non ho fatto niente io eh Stavo fermo No No Non riesco neanche a saltare la prima Aspetta Oddio Cioè Si possono saltare No 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 Scherzavo Niente Cosissimo E questi sono infami se stagionate Devi fare un misto tra il salto normale e il doppio salto Viacceci ragazzi Che cosa era se c'è stato un casino Wow Cioè mia madre Oddio Ok mia madre è come se c'è sempre qualcosa da casa Ho messo pure un cosa Ho messo pure un cosa No se è suicida Cioè ho messo anche un foglio sulla porta Però mia madre è alla stessa volta Non lo so Ok magari non era di vitale importanza raccontare questa cosa Ma va bene Eccolo mamma mia L'ho fatto subito L'ho fatto subito Il più pro Il più pro della stagione di l'hosto Ma dai Ehm sorry Ma la shift non funziona sulle ceste Ecco perchè ha messo le ceste No no la shift funziona sulle ceste Sì Allora dai Uffa No oh sei tu è questo Sì lo so Questo sono io Questo sono io ancora No Aspetta aspetta Ok vediamo calamaro che si distretta Ok ok posso andare No aspetta Ok Aspetta Sì sì ho da lontano Aia Che trambata l'ho data Ok Sì Sì Ok arrivo pure io Sto all'ultimo livello Ah è l'ultimo livello Sì Ah ok tanto tagliamo un pochettino Dai subvia 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 Quanti che non ti stanno Ehm 20 è qualcosa 20 è qualcosa 20 è qualcosa Abbiamo ancora 6 minuti Eh 4 5 minuti Mario Uii No no oddio Come mi sono salvato Come mi sono salvato Come mi sono salvato Oddio Come mi sono salvato di nuovo Di nuovo 3 volte 2 Sì 5 No Dai vabbè basta No no sei tornato indietro per tu No Scusate Trappa muoio No se cioè vuol dire che sto perdendo tutti i cuori Mi chiede la sposta da te Ok Perché tanto vabbè ero arrivato dai Ah questo è The Last Level The Last Level The Last Level La 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 Sottotude E qui non si sapeva le pressure plate Bellissimo Ah si qua non si sapeva le pressure plate Addio mondo crudere No Un shift 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 Aspetta no ma io non ero Aspetta eh Non ha messo il checkpoint Non ho messo il checkpoint Non ho messo il checkpoint Aspetta Quando moriamo Devo Devo ritelettrasportarmi da te Perché non ho messo il checkpoint Ma Dai Perché sono caduto nel vuoto Ti sei teletrasportato in testa Ho scritto meno 7 kill Esatto Lei è un signore Bad man Ok 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 No Fai stare zitto quel tuo stupid timer Vabbè Mettiamo altri Un altri due minuti Mettiamo Intanto Staglio qualcosina No Ce l'ho fatta No 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 Che non saltano apposissimo No No Io userò il comando slash kill Fino alla morte Quando citare non è abbastanza No Oddio Oddio Sì C'è fatto No 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 Ma Eh il primo salto è il più difficile di tutto Esatto Ti mette ansia il primo salto Ok Sono al terzo salto Quarto salto Ok Quinto salto Ma dai Sesto salto Attento al salto in cui c'è il blocco sopra Dov'è? Non è questo Eh avanti Sono caduto Sono caduto prima Ok Eccolo E lui è calamaro È lungo l'inimitabile No Ma dai Su Su via Per favore Mi Mario Ok ragazzi Ricordate Noi non stiamo citando Stiamo velocizzando i tempi Esatto Sono alzato col blocco sopra Ti ho Invece Sti Sledge Kill Ti ho Sledge Io sono Loppato due volte Dai Su via Ok ok Ho fatto questo salto E tu sei morto Dico quattro volte Ok Stai fin Quello Eh sì Se non c'è arrivi Era quello Era quello dopo Sì E tipo come lo fai quello No che cavolo Perché davanti non è giusto E quello devi Cioè non devi saltare Al bordo del blocco Come fa il solito Ma devi saltare tipo Prima Mio Dio è caduto È caduto Aspetta Rifacciamo la scena Ok Rigiriamola Ciacca si rigira Ok ci siamo Matericamera panoramica Uno No ma dai È caduto Di nuovo Ma la faccio io Ok Vai No aspetta Io l'ho fatto Ok aspetta Vai film Sono pronto Ti filmo Eccolo Ma dai Ma è schifo Ma che cavolo No aspetta Io già l'ho fatto due volte Aspetta Aspetta Ok Filma Ok ci sono Ci sono No aspetta 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 Fammi mettere la gamma A gamma A gamma A gamma A gamma A gamma Questo lo fai a rallentatore Con la cesta c'era Dun 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 S1 Ok abbiamo fatto Mamma mia Ma perché io non ho la lana La cesta si sta prendendo la lana No Dai Mettila Mettila Dai mettila Ehi Mettila Ok Ho visto qualcosa di laggoso Che passava davanti Però L'abbiamo Perfetto Wow Mario Questa è dedicata a tutti a Caramaro Perché ha fatto tutto lui Entra lì Vabbè Diciamo che Ci vediamo al basso Iscriviti Al burro del venticolo Ciao Ciao